Musica Samuele Bertinelli, sindaco uscente, nuovamente candidato per il secondo quinquennio. In questo dibattito della campagna elettorale la questione del risanamento del bilancio è passata un po' in sordina. Perché invece è così importante aver risanato il bilancio del comune? Perché l'Italia da oltre vent'anni, sia con i governi di centrodestra che purtroppo talvolta anche di centrosinistra, ha aumentato il debito pubblico e ha tagliato la spesa per i servizi alla persona. Questo significa ostruire la strada del futuro dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, di coloro che non sono ancora nati. Una politica responsabile che impronti il proprio agire ad un'etica rigorosa della responsabilità, si misura innanzitutto con questo, con la responsabilità verso i figli e verso coloro che non sono ancora nati. Per questo noi abbiamo dedicato integralmente il nostro impegno a ridurre il debito, che oggi è passato da 122,5 milioni di Euro a 84 milioni di Euro. E per la parte corrente, questo ha significato risanare il bilancio, passando da 10 milioni e 920 mila Euro di squilibrio ai 613 mila Euro del consuntivo del 2016. Ogni 10 milioni di stock del debito che si abbattono, si risparmia infatti un milione di interessi sulle quote di ammortamento del ratio dei mutui, sugli interessi legali. E questo significa più servizi alla persona. Noi non abbiamo risanato il bilancio per ragioni contabili o ragioniristiche, ma per ragioni politiche. Perché questo ha consentito di investire molto di più sui servizi alla persona. Abbiamo speso oltre 800 mila Euro di più per le politiche sociali, abbiamo speso molto di più, quasi un milione, per l'istruzione, per la educazione, per i nostri servizi educativi in particolare. E abbiamo speso più del doppio della media nazionale per le politiche e della cultura. Anche questa è la ragione per la quale Pistoia è divenuta la capitale italiana della cultura, che non sarà soltanto un'occasione straordinaria di visibilità della città, ma soprattutto un ponte gettato verso il futuro remoto della città, per innescare un nuovo processo di progresso non solo spirituale, civile e culturale, ma anche e soprattutto economico e sociale. Lo slogan della sua campagna elettorale è continuiamo a cambiare insieme. In quel continuiamo c'è la messa in campo di progetti già iniziati e che nel prossimo quinquennio andranno a compimento. Poi ci sono anche progetti nuovi che possono essere realizzati grazie al risanamento del bilancio. Pistoia sta già cambiando profondamente. Questi sono stati anni di semina e stanno per venire le stagioni della raccolta. Pistoia cambia perché in questi anni abbiamo sciolto tutti i principali nodi urbanistici della città, a nord-est, nell'area Pallavicini, a sud, con il ribaltamento della stazione, con la nuova S lunga, con un parco pubblico di 15.000 m2, con il nuovo raccordo tra la superstrada e la rotonda di Porta Nuova che oggi diventa davvero la quinta porta d'accesso alla città, restaurando integralmente la stazione centrale. Siamo intervenuti ad Ovest, consentendo finalmente di avere una conformità urbanistica piena per un tracciato di prolungamento di via salvo d'acquisto che offrirà un'alternativa d'uso al viale Adua che così diverrà finalmente un viale di quartiere ricco di servizi, di interesse collettivo, importante non solo per quei 18.000 cittadini che abitano lungo quella arteria stradale, ma per l'intera città. E lo abbiamo fatto risalando il torrente brusiliano, restituendo alla città il bosco in città che sta diventando uno dei parchi pubblici più grandi d'Europa. E così abbiamo fatto risolvendo questioni annose, penso alla vicenda della questura, della polizia stradale, della prefettura. Da oltre 20 anni si discuteva della inadeguatezza della questura sulla sede di via di Macallè, su un ponte assolutamente inadeguato anche per la inidoneità relativa di quell'immobile ad accogliere non soltanto i lavoratori, ma anche tutti i cittadini, tutti gli utenti di un servizio così importante. Oggi abbiamo una sede nuova, bella, moderna. Questo vale anche per la sede della Guardia di Finanza. Da oltre 25 anni se ne discuteva. La Guardia di Finanza era in immobili privati, in affitto. Oggi ha una caserma straordinaria nella zona sud della città. Abbiamo adottato il piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo già cominciato a pedonalizzare piazze importanti della città. Abbiamo liberato posti auto, penso a quello del parcheggio dell'antico ospedale, che oggi sta trasformandosi in un'area nuova, moderna, utile per la salute di tutta la città. Abbiamo ridotto di quasi la metà le partecipazioni del Comune, liberando anche in questo senso risorse importanti per i servizi pubblici alla città. E il risanamento del bilancio sta già consentendo di dedicare molte più risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria della città. Con lo sblocco delle assunzioni, che finalmente dopo 4 anni di blocco abbiamo avuto alla fine di ottobre, inizio di novembre e l'anno scorso, abbiamo già assunto 28 dipendenti. Proseguiremo su questa strada in particolare per avere stradini e giardinieri, perché è necessario che ci sia un salto netto nella manutenzione ordinaria e straordinaria della città, nella pavimentazione delle strade, nelle nuove bitumature, così come stiamo facendo con 28 strade, anche in questo momento, dopo quasi 3 anni di investimento di quasi un milione all'anno per la nostra rete stradale. Oggi con il bilancio risanato possiamo e dobbiamo proseguire in questa direzione. In questi anni abbiamo soprattutto investito in politiche per i servizi alla persona. Abbiamo dato vita finalmente al consorzio della società della salute, con tutti i comuni, dalla Betone al Serravalle e con l'azienda sanitaria. E abbiamo moltiplicato i servizi, ve ne sono di nuovi, che prima non c'erano, per donne soli con i loro bambini, per bimbi maltrattati, pluri abusati. Abbiamo riaperto, raddoppiandolo, l'albergo popolare. Abbiamo introdotto nuovi servizi, davvero molto significativi, per consentire alle persone di camminare con le loro gambe, con un progetto per la inclusione sociale e lavorativa. Soltanto l'anno scorso abbiamo offerto l'occasione a 17 cittadini, utenti dei nostri servizi, di ricominciare a camminare con le loro gambe, trovando occasioni di lavoro, avendo contratti di lavoro a tempo indeterminato. E abbiamo investito molto nell'educazione, nei servizi. Molte città in questi anni, anche di centro-sinistra, anche vicino a noi, in Toscana, hanno messo sul mercato, esternalizzato questi servizi. Il complesso dei nostri servizi educativi, invece, fa onore, non da oggi, alla città e ci consente davvero di essere, ogni giorno di più, comunità educante, perché sia cittadini fino dalla nascita, non soltanto quando si va a votare. Proseguiremo nella innovazione del welfare, in politiche della cultura, del sapere, intese come diritti di cittadinanza e soprattutto daremo una prospettiva alla capitale italiana e alla cultura per innescare davvero una nuova stagione di crescita, di fioritura della città. Una città che sta già accogliendo il mondo, si potrebbe dire, una quantità enorme di turisti e che anche per questa via potrà trovare la strada per nuova e buona occupazione. Qui siamo al CEPPO, ex ospedale. Il CEPPO rappresenta un po' una scelta strategica per il cambiamento profondo della città, del suo centro storico, ma poi anche delle periferie. Perché è così importante l'intervento sul CEPPO e in sintesi cosa si prevede? È importante perché la rigenerazione urbana è stata la cifra più autentica delle politiche pubbliche per il governo del territorio in questi anni. In questi cinque anni, infatti, Pistoia non ha sentito neanche un metro quadrato in più per consumare nuovo suolo. Abbiamo tagliato tutti gli indici edificatori, restituito terreno alla natura, abbiamo moltiplicato le aree a verdi. E questo l'abbiamo fatto perché è stato possibile, con progetti di grande qualità, intercettare risorse europee, nazionali e regionali di grandissimo rilievo. Penso in particolare, ma non soltanto, all'area del Bottegone, che ha consentito di acquisire alla città e a quell'importante quartiere così popolato 18 milioni di euro pubblici, ai quali aggiungeremo i nostri 18 milioni per politiche della mobilità pubblica coraggiose, per politiche ambientali rigorose. Tutto questo ha, potremmo dire, una sintesi particolarmente eloquente nell'area del CEPPO. Un terzo delle funzioni pubbliche della città storica, che dà luogo per la salute degli ammalati della città, come è stato per oltre sette secoli. Dopo aver spostato nel luglio del 2013 l'ospedale nell'area sud, nei tempi previsti, unica città della Toscana, si sta trasformando per divenire un quartiere di stampo compiutamente europeo. Cioè un quartiere ad emissioni zero, ricco di verde pubblico, ricco di funzioni pubbliche di pregio, con poche quote residenziali importanti, di qualità e soprattutto con il più importante polo museale della città, con spazi per il co-working, per le start-up di impresa giovanile, con il centro di documentazione Michelucci, con la Casa della Città, che sarà il luogo per la partecipazione attiva di ogni giorno, non soltanto per la gloria di qualche giorno, di tutti i cittadini pistoiesi che vogliano partecipare e che potranno farlo meglio grazie anche ai contratti di collaborazione che abbiamo reso possibili grazie a un nuovo regolamento per la partecipazione e l'amministrazione condivisa dei beni comuni, perché la partecipazione civile diffusa, democratica, sia sempre più la cifra caratterizzante la città. E qui troveremo occasioni importanti, a partire dal concorso di progettazione internazionale, per ridefinire la missione fisica di questa area, per la trasformazione del cuore intero della città storica. Qui già abbiamo un nuovo importante museo, quello per i ferri chirurgici, che sta diventando il polo museale della storia della medicina e poi della storia di tutta la città. Qui la USL ha già stanziato 3 milioni e 800 mila euro per la trasformazione dell'area nord, quella che si attesta sul viale Matteotti, che accoglierà la più importante casa della salute dell'intera provincia, 21 mila metri quadrati di funzioni sociosanitarie. L'area sarà divisa ricostruendo l'antica via del soccorso, che collega via della Crocetta, San Lorenzo, con piazza del Carmine e che sarà soprattutto immersa nel verde, in un verde di qualità, con presenze molto significative che prima non c'erano. Penso al giardino volante, penso anche al giardino del padiglione Modialisi, penso al giardino che sarà la copertura dell'attuale parcheggio su viale Matteotti, un giardino pensile di grande qualità, ma penso soprattutto alle prossime demolizioni, che stanno per iniziare con 5 milioni di euro che già abbiamo conseguito, intercettando risorse europee molto significative, 6 milioni e 2, oltre i 5 milioni di euro, ricostruiremo molto meno di quanto andremo a demolire. Demoliamo oltre 8 mila metri quadrati di superficie e ne ricostruiremo soltanto 4 mila. Gli altri 4 mila saranno anch'essi restituiti ad un grande parco pubblico, perché questa diventerà un'area integralmente pedonale, vissuta, viva, davvero ricca di servizi. Questo riporterà anche nella città storica importanti funzioni direzionali, perché la città vive, se invertiamo la rotta, come abbiamo cercato di fare in questi anni e sempre più faremo nei prossimi, circa un relativo impoverimento del centro storico di funzioni di interesse collettivo, statali e comunali. Per questo noi abbiamo dato la disponibilità al Ministero di Grazia e Giustizia per ricomporre qui le sparse membra della giustizia nel padiglione Cassa di Risparmio, 10 mila metri quadrati di un edificio già pronto, potremmo dire, per accogliere tutte le funzioni della giustizia, o in alternativa per ricomporre qui tutte le funzioni periferiche, oggi, del Comune di Quistoia. Cioè qui verranno, nell'arco di poche stagioni, a lavorare oltre 400 persone. E questo è un elemento di vitalità importante per l'intera città, anche perché qui abbiamo uno dei monumenti più conosciuti nel mondo, il Fregio Robbiano, che valorizzeremo a breve, aprendo una sala del nuovo museo dedicata esclusivamente a questo capolavoro di Santi Buglione, che ci ha fatti davvero noti nel mondo, giustamente nel segno della solidarietà antica di questa nostra città, le opere di misericordia. Cioè una città più solidale, più moderna, più aperta allo sviluppo, più dinamica. E quello che possiamo fare è perché abbiamo tanti servizi alla persona importante, perché abbiamo appunto risanato il bilancio, perché stiamo investendo in infrastrutture molto significative, dall'asse dei Vivai alla strada interquartiera nord, al prolungamento appunto di via salvo d'acquisto. Da qui potremmo dire parte una nuova stagione di progresso e di civiltà, di una città civilissima come Pistoia straordinariamente aperta al mondo. Il timore un po' diffuso è che il 31 dicembre prossimo si spengono le luci del mondo sulla città e quindi si torni un po' indietro. È passata l'anno di Pistoia Capitale, è finita la festa. Voi come pensate di mantenere accessi i riflettori internazionali sulla città? In realtà questa esperienza che noi abbiamo concepito come una responsabilità, non come una medaglia o come una benemerenza, comincerà a offrire i propri frutti a tutta la città, a tutto il territorio provinciale, esattamente a partire dal 1 gennaio 2018, perché noi non abbiamo concepito questo come un anno di grandi eventi che si consumino nel loro farsi, ma come un investimento sul futuro della città attraverso una rete di relazioni nazionali ed internazionali con alcune tra le più prestigiose istituzioni culturali d'Europa e del mondo. Penso al Guggenheim, penso al Maggio Musicale Fiorentino, penso ad importanti centri universitari e di ricerca in Italia, in Europa e nel mondo. E proprio per questo abbiamo investito in progetti che avessero un respiro pluriennale, destinati a durare nel tempo e a stabilizzare non soltanto la notorietà positiva che la città ha conseguito, noi oggi abbiamo quasi il 40% in più di presenze turistiche, dato che la città non l'aveva mai conosciuto nella sua intera storia, ma abbiamo soprattutto un insieme di investimenti, di restauro di chiese, monumenti importanti che andranno tutti molto oltre il 2017. In questo momento sono aperti i cantieri per il restauro di San Salvatore e di San Leone, stiamo per aprire quello per Santiago in Castellare, per la ripavimentazione e la pedonalizzazione di Piazza dello Spirito Santo e poi proseguiremo alla fine del 2017, nel 2018, con San Pier Maggiore, con la saletta Gramsci, con il recupero delle mura e con molto altro. Da questo ospedale andremo finalmente fino alle torri dell'Avarini, su Via L'Arcadia, alla fortezza di Santa Barbara, che sarà sempre più aperta ai pistoiesi, a partire di nuovo da quest'estate, dopo l'esperienza positiva dell'estate in fortezza dell'anno prossimo. Insomma, tutto ciò che abbiamo avviato in questo anno è destinato a crescere a partire dal 2018 e per gli anni a venire. Tutto questo produrrà non soltanto creatività civica diffusa, intelligenza collettiva, ma anche nuove occasioni di lavoro, in particolare per i più giovani, e parlo di lavoro qualificato, non soltanto quello nel settore alberghiero, della ristorazione, del commercio, dei servizi, ma anche quello nel restauro dei beni culturali, anche quello per il sistema museale, anche quello delle istituzioni culturali della città. E tutto questo produrrà inevitabilmente nuovo benessere per la città. È un cammino che abbiamo avviato tenacemente in questi anni e che proseguiremo proprio a partire da questo che non è un punto di arrivo, ma un punto di inizio. Pistoia, capitale italiana della cultura, ci consentirà di aprire la stagione del piano strategico di sviluppo, di una innovazione istituzionale importante, molto oltre i confini del comune di Pistoia. Ci consentirà di coltivare nuovi, importanti, ambiziosi progetti per traguardi che la città poche stagioni fa non avrebbe saputo nemmeno immaginare. Penso alla prospettiva da me proposta insieme all'architetto paesaggista Kipar all'inizio dell'anno scorso per costruire qui e nel territorio circostante la capitale europea del verde, a partire da tutto ciò che di importante abbiamo nella nostra montagna, nella nostra collina, dalla foresta del Teso alla foresta dell'Acquerino, ai possedimenti che furono il Pellegrino Antonini, fino al più grande giardino d'Europa mai conosciuto intorno ad una città che è il nostro vivaismo, che sempre di più dovrà puntare, grazie alla carta dei valori proposta all'amministrazione comunale, sulla qualità, sull'annovazione di processo, di prodotto, manifestare se stesso nel cuore della città, aprendosi appunto come un grande giardino, il più grande del continente, ai turisti, non soltanto agli acquirenti, ai cittadini, anche per costruire un sempre migliore equilibrio, un rapporto sempre più confidente e positivo tra la città e questo che è il nostro settore produttivo più importante, insieme a Dita Cireil, che davvero sta cambiando il volto anche della produzione metallomeccanica sul territorio, non soltanto con le TR1000, ma con i miliardi di nuove commesse che ha acquisito con la nuova occupazione e sempre di più noi radicheremo queste esperienze produttive nel tessuto dei nostri istituti superiori, secondari in particolare nel tessuto dei nostri presidi scolastici, quelli tecnici e professionali, dobbiamo mettere al centro lo sviluppo economico, la buona e piena occupazione, la città lo può fare e lo farà.